Il mal grazioso e benigno che visitando vai per l'aria è perso Noi chiediamo il mondo di San Quinto Se fosse amico il re dell'universo Noi pregheremo lui l'alto piano Noi c'hai pietà nel nostro mal perverso Di quel chiudire che parla di piano Noi udiremo e parleremo a voi E' pazzesco, sembra di André Potrebbe sembrare un canto del futuro In realtà è un canto dell'inferno di Dante Paolo e Francesca Ciao agli amici del liceo classico Palmieri Sono tornato a scuola tramite questo video Grazie a voi e grazie a Dante I suoi 700 anni della morte Devo dire che il mio incontro ravvicinato con questo poeta Non è stato dei migliori all'inizio Perché l'aspetto più generazionale La ribellione dei nostri anni Sicuramente mi spingeva Un po' come tutti, credo Almeno in quegli anni Mi spingeva ad amare una poetica diversa Un po' più vicina alla mia attitudine generazionale Quindi amavo tanto Leopardi Poco Dante Lo studiavo, lo studiavo bene Con la professoressa Rosalba Quarta Fantastico Vabbè Inizio a ricordarmi e quasi quasi mi commuovo Di quegli anni passati Nella scuola più bella del mondo E il liceo Palmieri Per me rimane ancora il sogno Il sogno Come potrebbe rimanere Dante